Il lavoro esiste per migliorare le nostre vite, non deve essere motivo di stress o di insoddisfazione permanente. Avete visto? Avete sentito tutti? Adesso lui ci penso io. Io Barbara oggi ho lasciato al lavoro. Cos'hai fatto? Sei un vigliacco, un egoista. Dobbiamo sposarsi fra sei mesi. Ma che c'entra il matrimonio Barbara adesso? Dai! Che futuro possiamo progettare insieme? Se tu non capisci il valore del lavoro, di un qualunque lavoro. Amore, guarda che la vita ha infinite possibilità. Cos'hai visto? Lucifero? Quasi. Unicomo. Sei vero quello che dicono sui sogni? Sì, ma ci sono anche i sogni premonitori, papà, eh? Sono 4-5 anni che lo rimandiamo a questo matrimonio. Siamo la barzelletta di tutti gli amici. È un irresponsabile. Le decisioni d'amore non c'entrano con la responsabilità. Quello è un tipo particolare, è sempre sulle sue, a cui non piace ricevere ordini. Sei quello che sei. Sei una persona normale. E se vuole tirare avanti, devi accettare quello che arriva. Fermi! Centrale! Sono un uomo che ci vuole buttare! Fermo! No! No! Non! No! 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 Non! No! Non! Grazie a tutti.